Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Soprattutto ragazzi Vai all'isola Tiberina, lì troverai Machiavelli, mi sta aspettando E tu cosa farai? Qualcuno deve stare qui a distrarre le guardie Torna tutto intero o non potrò mai perdonarmelo Va! Va! Cosa ho fatto per ridermi questa punizione? Prendetelo! 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 Ora, fai anche le cose! No! Scusate! Sì, è vero. Ah... No... Ah... Prendetelo! Ah... Cosa è stato? Presto! Rientrare al castello! Ok... No! Forza! Ah! Ci sta asseminando! Presto, ragazzi! Eccolo! Laciù! No! No! Corri come una femmina! Vieni qui! Non faccio quella! No! 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 C'è lino nefortr assistance! Un coppia, non ho pensiero, non ho pensiero! Un- Heta! Un coppia! No, no, no. No, no, no.